Il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, arrestato nell'ambito dell'operazione Montagna, ha confermato tutte le accuse nei confronti dei suoi ex sodali nell'ambito del processo che ne è scaturito. Quaranta, ascoltato in videocollegamento dalla località segreta in cui è stato condotto dopo il suo pentimento, ha indicato nomi e circostanze del coinvolgimento dei soggetti indagati, accusati di essere i nuovi referenti della mafia in provincia di Grigento. 52 persone hanno optato per il rito abbreviato, 6 invece verranno giudicate con il rito ordinario, con prima udienza già fissata per il 18 febbraio, davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Grigento. Tra questi anche l'ex sindaco di San Viaggio Platani, Santo Sabella. 14 le parti civile ammesse nel processo. L'accusa è sostenuta dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Alessia Sinatra, che il prossimo 21 gennaio comincerà l'atto di accusa suddiviso in tre udienze. Il blitz, come si ricorderà, era scattato lo scorso 22 gennaio. Per i difensori degli imputati, che avevano richiesto ed ottenuto l'audizione di Quaranta, nel troncone abbreviato del processo, la versione del pentito sarebbe contraddittoria e piena di incongruenze. Non solo nomi e mandamenti. Quaranta avrebbe ricostruito inoltre alcuni tentativi di estorsione, come quelle subite da una gelateria e da un distributore di benzina. Avrebbe confermato il ruolo apicale di Francesco Fragapane in seno al mandamento provinciale, indicato braccio destro e reggenti, parlato di forniture edili, fatto i nomi di bossi locali di vari paesi dell'Agrigentino, riannodato presunte alleanze e fatto riferimento alla precedente operazione denominata Nuova Cupola. Infine Quaranta ha raccontato anche del tentativo di estorsione ai danni di una ditta di Mussomeli, che in seguito avrebbe denunciato l'accaduto. L'operazione Montagna avrebbe portato in carcere i capi mafi di Raffadali, San Belgio Platini, Favara, Bivona e Sciacca.